è perché il 26 è il compagnolo di nonna, no il 27 è morito, ho pensato fosse il 26, non ho avvertito tutte le due volte questo film qui è davvero bello ha aggiunto un giorno in sei e l'avvertito hai guardato questo film? ma domani vai al mare Nico? no? ma io guardo se è diventata ancora negra in questa beh questa qui arriva inverno e diventa bianca come prima questa è la terza volta non taglia mai i capelli mamma mia ma stai facendo la dieta Chiara? ma guarda che stai demagrando o perché sei stanca? ecco no perché sul viso o perché il coso dei capelli? bianca 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 così ah vieni zia? bianca 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 pianca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.